La mia passione per il calcio è dovuta ad un fatto più che altro logistico, perché io sono nato a 10 metri dal vecchio comunale, il papà che mi portava a mano nella mano vicino e mi accostava alla rete dello stadio, del campo, quindi vedevo i calciatori da vicino che era un'emozione fortissima, questa emozione l'ho trascinata negli anni e quindi da curvaiolo sono diventato un po' più tranquillo, quindi distinti, mai tribuna, sempre ho tenuto una curva o distinti e poi nel corso degli anni dopo la maturità, anche dopo l'essere diventato un po' tra virgolette artista, ho aiutato, ho collaborato anche con le coreografie in curva est e per questo ho conosciuto tanti amici. Questa è una mostra che è esistita già, è partita già una quindicina di anni fa ed era collocata all'interno dello stadio Bonolis, nei corridoi degli spogliatori del Bonolis. Abbiamo deciso insieme di prendere dei personaggi più o meno storici che hanno vissuto la storia della termocalcio. Qualcuno poi negli anni si è aggiunto, per cui adesso sono diventate 20-21 opere. Molti erroneamente le chiamano gigantografie, ma in realtà sono pittografie. C'è una base fotografica sulla tela, leggerissima, e poi c'è l'intervento pittorico gestuale alla maniera pop. Io sono un artista pop, mi ritengo perlomeno un pop artista, con colori molto forti, anche perché le fotografie stampate sul canvas sono in bianco e nero molto leggero. Il colore dà vita, quindi potrebbe sembrare un cimitero, un minareto dove questi personaggi vivono. Invece col colore, il colore dà vita e quindi sono vivi, sono eroi viventi, sono mitici e rimangono una storia di mortali.